L'ultimo fine settimana è stato davvero emblematico della situazione difficile che si sta attraversando. Due giorni di sciopero di quasi tutti i sindacati di base, giovedì e venerdì, con manifestazioni e presidi in molte città italiane. Sabato manifestazione nazionale a Roma indetta da Comitato Priorità alla Scuola con l'adesione di CGL, CISL, Will, SNALS, Gilda e Cobas. Apparentemente simili le parole d'ordine di sindacati in sciopero e dei sindacati in piazza sabato, ma la differenza sta soprattutto su un punto. I primi contestano ai secondi la scelta di aver effettuato il protocollo per il rientro senza precise garanzie in ordine agli organici, agli spazi, alle misure di sicurezza. Generale invece la protesta contro la ripartenza monca, come sottolinea il Comitato Priorità alla Scuola. La scuola dimezzata nell'epoca del Covid-19 va contro il dettato costituzionale. Orari ridotti, carenza di docenti e personaleata, mancanza di spazi, uso massiccio di didattica digitale nelle scuole superiori, sono un duro colpo al diritto allo studio. In effetti il problema maggiore sembra essere davvero quello delle migliaia e migliaia di cattedre ancora scoperte, problema causato non solo dal malfunzionamento delle graduatorie provinciali, ma anche da situazioni pregresse difficili da risolvere nel giro di pochi mesi. Su questo, in aiuto e in difesa della ministra Azzolina, è sceso persino il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha ricordato anche la sua esperienza di studente. Quando facevo il liceo, ha detto Conte, avevo insegnanti supplenti almeno fino a Natale. Il fatto è che, stando a quanto sostengono i sindacati, i numeri sono impietosi, le previsioni drammatiche. È possibile che quest'anno si arrivi a 250.000 cattedre coperte da personale precario. E non è detto che il prossimo anno la situazione possa migliorare in modo significativo. È vero che sono in programma concorsi straordinari e ordinari, ma è altrettanto vero che per il 2021-22 si prevedono non meno di 50.000 pensionamenti. Anzi, proprio in queste ore abbiamo avuto la certezza che la prova del concorso straordinario si terrà il 22 ottobre. Resta però un dato. Le nuove assunzioni copriranno poco più del turnover. E se non si lavora per invertire il trend, il rischio è quello di avere un sistema formativo tenuto in piedi per un buon 25-30% da personale precario. Tutti i tentativi fatti nel corso dell'ultimo ventennio per migliorare la situazione non hanno dato i risultati sperati. Questo significa che il problema è ormai strutturale e non è legato soltanto alla volontà politica della maggioranza di turno. Forse a questo punto è indispensabile mettere mano al sistema di formazione e reclutamento del personale docente, inventandosi anche modelli e soluzioni nuove. Il tema ovviamente è di grande interesse, quindi noi continueremo ad occuparcene. Continuate a seguirci su questo canale, ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it Soprattutto scriveteci, mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni. Grazie a tutti.